Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. In Abruzzo si prospetta un weekend ancora abbastanza incerto, soprattutto al mattino e poi nel pomeriggio avremo la possibilità di addensamenti da prima sulle coste e poi nelle aree interne. Non mancherà qualche piovasco spasso, specie sul Vastese, la costa Tiatina, anche sull'Alto Sangro qualche forte temporale. Andrà meglio sicuramente sull'Abruzzo settentrionale, specie nelle aree interne, la Concaquilana, la Marsica, dove splenderà il sole per buona parte della giornata. Le temperature in ulteriore lieve calo, quindi subentra l'aria più fresca settentrionale, massime tra 26 e 27 gradi, minime tra 14 e 22 gradi. Grazie per averci seguito, a tutti voi un sereno weekend. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.